Giunto alla sua quarta edizione, il Kimco Exciting 400S si rinnova nel look e nelle dotazioni. Suo habitat è la città, ma è in grado di esteggiarsi abilmente anche sulle strade extraurbane, grazie a un motore brillante e alla ciclistica genuina. E poi, soprattutto, con questo look, è bello anche portarlo all'aperitivo. Le linee sono più aggressive rispetto al suo predecessore. Nello scudo trovano ora posto nuovi fanali con sistema DRL, Daytime Running Light, e un nuovo parabrezza regolabile manualmente su 5 posizioni. Quando si parla di scooter, la praticità è un aspetto fondamentale. L'Exciting S è dotato di due vani dove riporre gli oggetti nel retroscudo, di cui uno dotato di presa USB, oltre al vano sotto sella, è in grado di ospitare comodamente un casco integrale. La vera chicca però si trova alle spalle dello scudo, è ovvero la nuova strumentazione che integra il sistema Nudo Navigation. Primo scooter ad adottare un navigatore di primo equipaggiamento. Le informazioni sono chiare e leggibili e vengono mostrate di volta in volta, man mano che si avanza nel percorso. La posizione di guida in sella al nuovo Exciting è naturale. La sella è comoda e ben imbottita per entrambi gli occupanti. Promossa l'ergonomia, grazie a leve regolabili per i freni e comandi del sistema Infotainment chiari e facilmente raggiungibili. Fin dei primi metri si capisce che l'Exciting è uno sportivo per l'eccellenza della gamma Kinko. Il bilanciamento dello scooter è ottimale e si affrontano le curve con la sicurezza di un avantreno onesto e preciso, grazie anche alla doppia piastra di sterzo. Rigide invece è la risposta degli ammortizzatori che maldigeriscono le buche più profonde. Il motore è brioso, la spinta è disponibile da subito grazie a una trasmissione veramente a punto. L'Exciting ha suo agio anche in autostrada grazie alla buona protezione aerodinamica offerta dal cupolino e alla velocità di punta di 140 km all'ora. Il sistema Nudo Navigation è pratico e di facile lettura una volta in sella, mentre meno intuitiva è la configurazione del dispositivo con il proprio smartphone e la scelta del waypoint. Ma siamo solo all'inizio, diamogli fiducia, migliorerà nel tempo. Il nuovo Exciting 400S è disponibile in due colorazioni, tutte e due opache, blu verbania o nero a lione. Il prezzo d'attacco è 6790 euro, ma come al solito ci saranno diverse promozioni e scontistiche per chi deciderà di acquistare il nuovo scooter sportivo di Kinko. Inoltre non mancheranno la possibilità di personalizzare con parabrezza più grande per l'uso turistico o più piccolo dal taglio sportivo. Ci sarà inoltre anche la possibilità di montare un bauletto e uno scarico a termate. E voi che cosa ne pensate del nuovo Exciting 400S? Ne valutereste l'acquisto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli altri video e non dimenticate di seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook e su www.motorbox.com Al prossimo video, ciao!